L'imperativo è tornare a vincere, in casa il successo banca dallo scorso 13 novembre, 1-0 col Messina, Colombo recupera Aloy ma perde Brosco, il suo posto Boben davanti altra novità sostanziale, Colai dal primo minuto in luogo di De Sogus, tridente completato da Cuppone e Tupta per l'Escano, sesta panchina di fila, il ricordo di Marco Mazza, detto bubù capostorico della curva nord dei Rangers, purtroppo prematuramente scomparso, 17 anni fa di fronte la Viterbese con Giovanni Lopez, terzo allenatore di una stagione a dir poco travagliata, penalizzata di due punti, ultimo posto 3-5-1-1 davanti Volpicelli alle spalle di Polidori, abbiamo visto la conclusione sul calcio franco di Volpicelli fuori misura, qui ci sono delle proteste da parte di Colai ma in realtà ci sembra che ci sia nulla, insomma il braccio di Andreis attaccato al corpo, ventesimo minuto, comincia ad attaccare con grande determinazione e la Pescara ci prova di nuovo Colai che si accentra, altre proteste, poi la palla termina a fondo campo, ventiduesimo minuto, linea esauribile Cancellotti, il suo cross, colpo di testa di Cuppone, il riflesso prodigioso di Bisogno, la prima parata di una partita eccezionale, anche se Cuppone poteva fare meglio in quella circostanza, ancora Cancellotti che evita, deve tacche il suo cross, pugni chiusi e Bisogno, la palla viene colpita ancora di testa da Cancellotti, tutto fermo, c'è il fisco del direttore di gara, ancora Cancellotti, il cross, altro colpo di testa di un difensore della Viterbese, poi Colai controlla il pallone, l'appoggio per Craia, il suo destro dal limite, si allunga e sventa ancora, una volta, l'estremo difensore, Laziale Bisogno, classe 2000, ancora Cancellotti, il cross, la spezzata di Cuppone, poi Colai controlla il pallone, evita due avversari il suo destro, picca nella precisione il numero 7 Biancazzurro che comunque cresce alla distanza, poi ancora Cancellotti per Tupta, è buono il movimento, elude Ricci il suo sinistro, viene respinto all'altezza del primo palo, dal piazzatissimo Bisogno, calcio d'angolo, 47esimo in favore del Pescara, lo batte Mora, poi ingrosso e non riesce a trovare l'impatto con la sfera, praticamente sotto misura, un metro dalla porta, Cuppone riesce a salvarsi ancora una volta, Bisogno, gran riflesso anche in questa circostanza, lato corto dell'area di rigore, Colai, gira la difesa avversaria, la deviazione di Meghelaitis, la palla termina in calcio d'angolo, poi Mora, la sua giocata, ancora largo per Colai, che prova il suggerimento, il pallone termina però a fondo campo, un suggerimento troppo profondo per le possibilità dei suoi compagni di squadra, entrano anche altri giocatori del Pescara, tutti gli attaccanti tranne Facundo Lescano, ci prova ancora Cuppone in acrobazia, si fa a trovare sempre puntuale all'intervento, l'estremo difensore della Vitervese, Bisogno, grande protagonista, poi Cuppone, il suo destro al lato, Cuppone che insomma col passare dei minuti non riesce a dare più il contributo, che aveva invece offerto nel corso del primo tempo, Vergani, bravissimo in questo spunto, il tiro con la punta del piede, ancora reattivo l'estremo difensore della Vitervese, Bisogno. Poi settantaquattresimo, vediamo, Mora alza la testa, l'appoggio per Craia, il grandestro è questo un altro intervento determinante del portiere della Vitervese, Bisogno, siamo all'ottantacinquesimo, la porta sembra stregata, questa è l'unica sortita offensiva della Vitervese nel secondo tempo, prova con questa girata, Polidori, la palla termina al lato, si rammarica il numero 18, che è stato anche tesserato dal Pescara nell'estate 2016 senza mai giocare nella formazione biancazzurra, il gol di Delle Monache, Delle Monache che è andato proprio a sgommare sulla fascia, poi l'appoggio per De Sogus, l'interno destro riesce solo a respingere bisogno, il tap-in vincente di Marco Delle Monache che compirà 18 anni il prossimo 3 febbraio classe 2005, il primo gol tra i professionisti per il ragazzo di Cappelle sul tavo, che Fabio Ferraresi conosce benissimo, qui bravo, molto bravo dobbiamo dire, Boben nell'anticipo, c'è un rimpallo favorevole, poi l'azione continua, De Sogus ancora per Delle Monache che entra in area, De Sogus che va a colpire, a concludere verso la porta difesa da bisogno, che respinge il tap-in vincente del rapidissimo Marco Delle Monache, rivediamo ancora una volta da più angolazioni il gol partita, un gol liberatorio ad un minuto dal termine, praticamente all'ultima curva, all'ultimo respiro, il Pescara riesce a sbloccare il punteggio dopo una migriade di occasioni create, ma non concretizzate, ne abbiamo contate almeno 7-8, finisce qui, dopo 4-5 minuti di recupero, Pescara batte Vitervese 1-0, torna a sorridere il Pescara, Pescara che non vinceva in campionato dall'11 dicembre, trasferta di Monopoli addirittura in casa, dallo scorso 13 novembre 1-0 sul Messina.